Oh, bene, mi fa piacere di trovarvi qui. Buongiorno. Avete fatto una buona colazione, signor Nicolino? Io no. Grazie. E voi? Come voi? C'è allusione in questa contradomanda? Quale allusione? Ah, beh, credevo, perché con certa gente non si sa mai. E io, come avrete ben capito, ne ho poche spicce. Per temperamento naturale e per tendenza fisica. E vi auguro di non mettermi alla prova. Io vi ringrazio dell'augurio. Ho permesso. Dove andate? Così. Niente. Ma perché non me ne posso andare? No. Prima devo parlarti. La giacchetta? Tu. Sono tutto ricchi. Ma da solo a solo. Ora c'è. Eh, portarete. Ah, io discretamente mi allontano. Posso sparicchiare. No, no, lasciate tutto in tavola. Come volete. Noi dunque. Ora siamo soli. Lo vedo. Un appartimento soltanto. Ascolto. Le indagini sono cominciate, proseguono. Ah, proseguono le indagini? Eh sì, non ve l'aspettavate. Dite che non ve l'aspettavate. Non ve l'aspettavo. Ora dunque, se risulterà che voi non siete uno dei gemelli di cui parli il testamento, ma come pare un semplice imbroglione. Sapete che cosa succede? No, sarei curioso. Succede che io vi scarico addosso, meglio, nella fronte tutte le pallottole della mia rivoltella. Wee, 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 non facciamo schizzi. E quante sono le pallottole? Porto, tutte calibro dodici. Calibro? Dodici! E la mia mirra è infallibile. Siamo intesi? Intesi. Come vedete, ho avuto la cortesia di avvertirti. E io vi ringrazio. E adesso potete andare. Grazie. Ora io mi siedo e faccio colazione un'altra volta. Eh, è la mirra. Me la mangio lo stesso. Buon appetito. Grazie. Eh. Chiudo per le correnti d'aria.